Eccoci alla grande ginnastica. Ho l'onore qui di ospitare in studio un altro super ospite, Thomas Grasso, che è oro agli ultimi assoluti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sicuramente insomma una grande conquista, il tuo oro al volteggio nei campionati assoluti italiani che si sono svolti al Palavesuvio di Napoli l'11 e 12 luglio scorsi, quindi è un oro recente. E allora io direi prima ci andiamo a vedere perché abbiamo due filmati in cui si vede la tua esibizione e poi ne parliamo insieme, Thomas. Allestire il podio così, tenerlo per tanto tempo è veramente un lavoro certosino di tutti i ragazzi che collaborano con me, a partire da mio figlio, da Stefano, da tutti i ragazzi che stanno insieme. Uno staff immenso. Veramente uno staff che tra l'altro ci dà soddisfazione perché vengono da fuori, abbiamo volontari che vengono dall'Emilia, dal Piemonte, dalla Liguria, questa è una cosa veramente bella. Quindi andiamo avanti, la cosa importante come è il gruppo, lavorare insieme si ottiene qualcosa, altrimenti no. Hai veramente ragione, grazie Aldo Castaldo. Grazie a voi. Grazie mille, intanto abbiamo visto una bella trave ma abbiamo visto soprattutto questo salto straordinario. Straordinario, lo completo io. Allora andiamo a vedere anche l'altro filmato perché insomma devo dire che già le immagini ci raccontano quello che ha fatto Thomas in pedana. Allestire il podio così, tenerlo per tanto tempo è veramente un lavoro certosino di tutti i ragazzi che collaborano con me, a partire da mio figlio, da Stefano, da tutti i ragazzi che stanno insieme. Uno staff immenso. Veramente uno staff che tra l'altro ci dà soddisfazione perché vengono da fuori, abbiamo volontari che vengono dall'Emilia, dal Piemonte, dalla Liguria, questa è una cosa veramente bella. Quindi andiamo avanti. La cosa importante come è il gruppo, lavorare insieme si ottiene qualcosa, altrimenti no. Hai veramente ragione, grazie Aldo Castaldo. Grazie a voi. Grazie mille, intanto abbiamo visto una bella trave ma abbiamo visto soprattutto questo salto straordinario. Ce lo siamo rivisti praticamente alla fine, va bene. Allora, salto straordinario, finisco io, incredibile, qualità esecutiva eccezionale, arrivo perfettamente stoppato, una meraviglia guardarlo, rende facile un qualcosa che di facile proprio non è. Questo è il commento completo per quanto riguarda questa esibizione di Thomas. Allora, raccontami Thomas un po' l'emozione, era la tua terza partecipazione ai campionati italiani assoluti ed è arrivato quest'oro nella tua specialità. Sì, finalmente è arrivato, erano almeno due anni che cercavo questo risultato e gli altri due anni scorsi purtroppo non ci sono riuscito a causa di due cadute e quest'anno finalmente ce l'ho fatta nonostante non abbia una condizione fisica ottimale tuttora a causa di un infortunio al piede però comunque sono venuti fuori i miei due salti che faccio tutti i giorni in palestra e quindi il risultato era non prevedibile però comunque è alla mia portata e sono contento di averlo portato a casa. Che cosa hai provato subito dopo essere atterrato? Ho detto finalmente ce l'ho fatta perché comunque questo salto è un salto che in Italia eseguo solo io e anche nel mondo non eseguono in molti ginnasti e l'ho eseguito già parecchie volte quest'anno diciamo molto bene e quando serviva a farlo a questa finale dei campionati assoluti sono riuscito anche questa volta quindi ero molto soddisfatto. Invece l'emozione sul podio? Sul podio alla fine in realtà... Meno dici perché è più dopo l'esibizione, è più a caldo. Esatto, come fosse una gara normale perché sapevo che comunque il lavoro era stato fatto in palestra e non è stato niente di eccezionale. Ecco, lavoro in palestra perché la vostra è una disciplina che richiede tanto tanto lavoro in palestra perché insomma noi vi vediamo volteggiare in maniera così sublime però perché dietro c'è un lavoro davvero importante. Sì c'è un lavoro di molti anni, io ad esempio ho iniziato a fare ginnastica quando avevo otto anni almeno e gli allenamenti sono ovviamente molto duri e ci alleniamo tutta la settimana dalle tre ore e mezza alle quattro ore e è stato anche difficile un po' magari all'inizio conciliare gli impegni scolastici però comunque alla fine con un po' di organizzazione se è quello che si vuole fare veramente non ci sono grandi problemi. Che studi fai adesso? Adesso studio lingue, faccio e-campus, l'università online proprio per riuscire meglio a gestirmi tra gli allenamenti e lo studio. Ecco così quando capitano le competizioni internazionali sai parlare con tutti i tuoi colleghi atleti. Allora c'è anche un sogno che insomma ci auguriamo presto diventi realtà perché si parla di una pre-convocazione per i mondiali di Tokyo quindi insomma sarebbe sicuramente diciamo la ciliegina sulla torta dopo una bella stagione proprio grazie a quest'oro. Sì esatto quest'anno è andato già molto bene perché ho partecipato a maggio ad una coppa del mondo a Varna in Bulgaria anche lì non stavo bene perché il problema al piede era ben diciamo si faceva sentire però comunque il mio volteggio sono riuscito a farlo in finale poteva andare un po' meglio ma sono comunque contento. A fine anno ci sarebbero questi mondiali e nel caso ovviamente verrei convocato per la specialità del volteggio e forse quella del corpo libero e niente adesso c'è solo da lavorare e sperare che diventi che questo sogno diventi realtà. Beh insomma dai te lo auguriamo perché con tutto il lavoro fatto giustamente insomma te lo meriti ve lo meritate in generale perché è uno sport particolarmente duro insomma da praticare cioè bellissimo ma richiede tantissimo impegno. Allora torniamo un attimo sul tuo punteggio che faccio dire a te perché io ne capisco relativamente perché sono numeri perché tu hai fatto un punteggio che è stato quello più alto insomma totalizzato. Sì il punteggio più alto di tutta la gara ovviamente non tutte le specialità della ginnastica si possono diciamo mettere a confronto perché comunque i punteggi e il volteggio sono di per sé un po' più alti però comunque il primo salto quello che abbiamo visto è un salto che parte da 15.6 e ho preso 15.2 quindi vuol dire che ci sono stati solo quattro decimi di penalità che sono molto poco. Quindi insomma benissimo. Noi abbiamo anche altre immagini perché dicevamo la tua annata poi chiaramente adesso credo l'obiettivo sia quello abbiamo detto per i mondiali però come prosegue? No adesso fino a quell'appuntamento lì non ci sono altre gare ufficiali. Quindi concentrato su quello insomma. Perfetto sì sì. Perfetto perfetto benissimo. Allora io Thomas ti faccio ancora insomma ti ringrazio a nome di Rimini della Rimini Sportiva perché insomma hai portato in alto il più possibile con l'oro addirittura la nostra città perché insomma quando un atleta riminese prende un oro conquista un oro lo conquista tutta la città. Quindi grazie a nome della città Thomas. Grazie a voi. Grazie anche a voi. Continueremo però a parlare di ginnastica e anche della Polisportiva Celle insomma che vede il suo ottimo rappresentante Thomas Grasso. Tra poco perché ci sono anche altri risultati importanti. Chiaramente un oro è sempre un oro è assoluto ma ce ne sono altri importanti di cui dobbiamo parlare. Lo faremo tra poco. Eccoci qua ancora a parlare di grande ginnastica in questo caso di ginnastica della Polisportiva Celle e allora abbiamo Michela Carlini che è il tecnico, un tecnico, uno dei tecnici principali ovviamente della Polisportiva Celle. Buongiorno innanzitutto Michela. Buongiorno a tutti. Allora io partirei prima però dall'altra componente perché tu sei giustamente un tecnico, non è l'attrice della Polisportiva Celle ma sei anche la mamma di Thomas Grasso e allora raccontami un po' l'emozione, visto che è figlio d'arte giustamente, l'emozione nel vedere questo successo, questo oro che finalmente è arrivato nella sua specialità al volteggio. Sì sì è arrivato, sì Thomas ha raccolto questa eredità che io ho lasciato molti molti anni fa, anche io ho partecipato agli assoluti diverse volte, sono andata a medaglia, sono andata a medaglia a qualche attrezzo ma mai a medaglia d'oro, quindi già questo... È una prima allora, è una prima. Sì 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 sì, questo coronamento ci stava, ci stava completamente, lui si è impegnato, non era in forma fisica, quindi da mamma devo anche dire che quando è arrivato in piedi già ero felice perché aveva portato a casa la pelle come diciamo noi e poi vabbè è arrivato anche un punteggio stratosferico che tutti hanno ammirato ovviamente, quindi eravamo felicissimi. Bene bene, adesso speriamo anche per i mondiali, insomma speriamo, confidiamo di avere un riminesi nei mondiali, non sarà facile perché la selezione è complicatissima. Sì sì, sono 12 atleti convocati, ne andranno solo 6, lui è specialista al volteggio, diciamo che se la giocano in 3 questa specialità, però il punteggio più alto al momento ce l'ha lui e quindi vediamo, vediamo anche come sta fisicamente. E poi è oro, quindi insomma se l'Italia vuole vincere qualcosa ai mondiali deve portare chi poi aveva vinto loro, no? Ecco, questo lo diciamo se ci dovesse ascoltare qualcuno dei tecnici, perché insomma noi facciamo il tifo ovviamente per Thomas. E ovviamente Thomas è diciamo in questo momento il nome di punta, ma insomma sappiamo come lavoriate da tanti anni come Polisportiva Celle per la ginnastica del nostro territorio. Allora raccontami un po' quest'annata soprattutto. Quest'annata dura, molto molto dura, ovviamente dovuta alla pandemia ha tenuto in piedi tutti gli agonisti che partecipano alle gare. Parliamo di attività diverse, di attività silver e di attività gold, per fortuna i ragazzi si sono potuti allenare. E probabilmente si sono allenati anche con un altro spirito, un'altra convinzione, rendendosi conto anche della fortuna che avevano ad essere in palestra, a coltivare le proprie ambizioni. E quindi siamo partiti a gennaio con un campionato di Serie A, prima volta nella storia con i ragazzi, quindi Thomas faceva parte anche della rappresentativa maschile che è arrivata in Serie A. Bene, bene questo esordio, purtroppo non siamo riusciti a mantenere il nostro posticino in quel campionato e quindi retrocederemo in Serie B, ma questo era un pochino previsto e siamo comunque contenti dell'esperienza che hanno fatto. In concomitanza le ragazze affrontavano, ecco vediamo adesso la foto, il campionato di Serie C, non è andata come speravamo perché siamo arrivate seconde, solo la prima squadra si poteva meritare l'accesso alla Serie B. Ci riproviamo, ci riproviamo con forza ed energia, però bene, bene perché comunque abbiamo una rosa di ginnaste, abbiamo 15 ginnaste gold ed è un'ambizione grandissima per noi. Partiamo dagli otto anni, come sapete la ginnastica è molto precoce in questo e lavoriamo sodo, lavoriamo sodo con tutte quante per realizzare un po' i loro sogni. Ebbè certo, dicevamo prima che con Thomas è uno sport che richiede tantissimo impegno e chiaramente chi decide di sposarlo lo fa a 360 gradi, perché è uno sport che richiede anche sicuramente tanto impegno dentro la palestra e fuori dalla palestra. È proprio uno stile di vita che, come diciamo e come cerchiamo di impostare, poi si ritroveranno in futuro, un po' in tutto, anche a livello scolastico. Sono sempre ragazzini attenti, molto organizzati, molto abituati a seguire le regole e questo viene riconosciuto un po' in tutti gli ambiti che loro frequentano. Quest'anno ci è venuto a mancare il nostro vivaio, la parte dei 5-8 anni che noi alleniamo in funzione delle nuove squadre e ci stiamo riattivando adesso. Certo, per ripartire diciamo a settembre già? Siamo già ripartiti, noi appena abbiamo potuto reinserire i piccolissimi in palestra, chi ha voluto, chi si è fidato, chi insomma ci crede e ci siamo attivati. Quindi sì, abbiamo anche il nostro vivaio pronto sperando che non succeda nient'altro che ci vieti di portarlo avanti. Obiettivi per la prossima annata? Allora, gli obiettivi sono tanti, insomma la squadra di maschile può ripensare di riaccedere in A e questo lo rivedremo a gennaio quando ripartiranno i campionati. La femminile deve ritornare in serie B, sapete che la storia della femminile è passata in A, poi il retrocesso è stato un po' turbolenta ma comunque molto piacevole, le ragazze non hanno mai perso l'entusiasmo e quindi dobbiamo fare un passettino avanti. E poi ci auguriamo che tutti i gruppi che stanno comunque continuando a preparare gare, sai che c'è Rimini in Festa organizzata dalla Federazione Ginnastica dove noi abbiamo portato quasi 100 ginnasti e che continuano a coltivare la loro passione. Ginnastica in Festa ovviamente. Ginnastica in Festa, il settore Silver, sì, sono ginnasti che si allenano comunque 6-9 ore a settimana e coltivano il loro sogno di gareggiare, di fare podio e di fare medaglia come abbiamo visto Thomas, quindi l'augurio è questo, insomma che i ragazzi possano continuare a vivere la loro esperienza, la loro ginnastica con serenità. E ce l'auguriamo, con questo augurio io ti ringrazio Michela, grazie. Grazie a te, grazie dell'invito.